Il mese rispetto dai miliardi per imporre a mano militare il territorio apprenduto dei datosi gli assumenti lavoratori che licenziate come quei ragazzi che sono fuori da mesi come tende, i cibi di operati licenziati da noi in Italia e noi questi sono stati basti miliardi per costare il nostro territorio con tre miliardi di extravisto che servono solo le ragioni di esprimazione e specifiche che ce li impongono noi difendiamo i nostri territori, difendiamo i militi dei lavoratori che lavorano tra l'Italia difendiamo i militi dei consumatori e dei pendolari nelle loro tre milioni generali sempre più scarci, sempre più sporchi